Ciao da Walter, oggi vorrei parlarti del caso dell'ETF attivo ARK Innovation, un titolo quotato in America che ha avuto ad un certo punto una vera e propria esplosione, tanto che saliva in verticale come un razzo, sembrava un razzo lanciato verso la luna. Era veramente una cosa incredibile, sembrava che il gestore, Katie Wood, fosse in grado di moltiplicare i pani e i pesci. Poi ad un certo punto il giochino si è rotto e il titolo è iniziato a crollare, è veramente crollato di colpo fino ad arrivare addirittura a ritornare alle quotazioni del 2018-2017. Che cosa è successo a questo titolo? Perché è importante anche per noi sapere la storia di questo titolo? Scusa Walter, ma non dicevano sempre che gli ETF attivi erano meglio dei fondi attivi perché c'era un trading system che regolava il portafoglio e non un gestore umano? Non ci capisco più niente, me lo spieghi. In effetti è proprio così, ma proprio qui sta la differenza, perché un conto è dire che un ETF oppure un trading system qualunque ha una logica di tipo matematico nello scegliere i titoli su cui investire, ma se alla fine il trading system è sempre progettato dall'uomo, quindi se alla fine l'uomo che ha progettato la macchina poi dopo gli ha messo le ruote sbagliate, gli ha messo il motore sbagliato, gli ha messo la benzina sbagliata, alla fine la macchina si fermerà, quello è il problema. Quindi è sempre l'uomo che progetta il trading system. Quindi questo è davvero molto importante, perché spesso si demonizza eccessivamente il fondo comune di investimento, perché è tutto in mano ad un gestore che, essendo un umano, essendo un team di gestione, richiede un compenso. Allo stesso tempo però è proprio qui che vorrei un attimino porre l'accento, perché è vero che il team di gestione richiede un compenso spesso elevato, però è anche vero che se le cose vanno male sono in grado, umanamente, di prendere delle decisioni e correggere il tiro. La differenza invece con un ETF sta proprio qui, perché l'ETF ha un algoritmo, l'algoritmo si muove in base a ciò che è stato predeterminato. Ora, se chi ha predeterminato l'algoritmo lo ha fatto basandosi su una storia che funzionava bene nel 2015, 16, 17, 18, quello che vogliamo, poi ad un certo punto questo meccanismo, questo algoritmo, si inceppa, e a questo punto l'algoritmo va avanti come un panzer, cioè l'algoritmo non sta a guardare se funziona o non funziona, per lui sono movimenti matematici, quindi l'algoritmo continua a comprare sbagliando e continua a sbagliare sbagliando, insomma. Che cosa è successo adesso, andando nel dettaglio, che cosa è successo a questo ARK Innovation? È stato uno dei più grandi suicidi finanziari della storia. In realtà, secondo la prestigiosa rivista Barons, di cui ti metterò il link in descrizione, a quanto pare è stata proprio una serie di scelte completamente errate da parte del gestore che vengono poste a monte. Ricordiamo anche in questo caso che gli ETF hanno una scelta di titoli ed una caratterizzazione, uno stile di investimento che viene scelto a monte, e poi questo rimane nel tempo. Anche se vengono chiamati attivi, in realtà attivi non lo sono, perché sono attivi sì, ma si muovono all'interno di parametri determinati e predeterminati. Quindi che cosa è successo? È che la casa di investimento ha concentrato gli investimenti in troppi pochi titoli. Quindi già la diversificazione è la prima cosa che ci insegnano alle elementari della finanza, invece loro hanno concentrato in un numero ristretto di titoli. All'interno di questi titoli c'erano tanti titoli scommessa, quindi titoli, le famose penny stock, quindi tanti titoli molto volatili, molto illiquidi, che poi ad un certo punto, ahimè, sono crollati. All'interno di questi pochi titoli hanno infarcito anche con tante criptovalute, e quindi anche lì adesso anche le criptovalute hanno perso sì e no il 50%, più o meno tutte, e quindi anche lì disastro su disastro. Ecco però perché questo caso americano è utile anche per te? È utile perché negli ultimi anni gli ETF a movimentazione attiva ovviamente sono diventati molto di moda anche in Italia. Facciamo attenzione perché in Italia quasi tutti questi titoli hanno una storia molto breve. Ora, non vuol dire che per forza tutti quanti debbano compiere gli errori che sono stati compiuti da questa casa di gestione. Assolutamente no, magari andranno benissimo nel tempo. Quindi l'invito per i lettori di rendimento fondi è quello di sovrapporre sempre più titoli per farsi un'idea di quale va meglio e continuare poi a monitorarli attraverso i tool di rendimento fondi che ci permettono di sovrapporre diverse curve e quindi tenerli anche monitorati nel tempo. Vediamo in questo esempio dove abbiamo sovrapposto due ETF a gestione attiva con un fondo a gestione attiva più o meno paragonabile. Lo abbiamo ovviamente paragonato, lo abbiamo sovrapposto nell'ultimo anno perché come dicevo prima, molti di questi ETF hanno una storia molto corta. Ebbene, notiamo due cose. La prima è che quantomeno gli ETF quotati in Italia non hanno vissuto quella brutta storia dell'Arch Innovation. Quindi tutto sommato stanno reggendo. I due ETF si muovono pressa poco in fotocopia pur essendo di case totalmente diverse. Sono degli ETF 60% azionari, 40% obbligazionari e quindi loro da lì non si muoveranno mai. Mentre invece se lo andiamo a paragonare con un fondo che ha una libertà di movimento maggiore scopriamo che pur non essendo un fondo che va totalmente all'opposto mentre uno scende e l'altro sale, non stiamo dicendo quello assolutamente però negli ultimi mesi comunque il fondo sta offrendo una performance del 4% superiore rispetto ai due ETF e comunque quel 4% va a controbilanciare, va a pagarti le spese in più che tu devi sostenere per il fondo. Quindi comunque in ogni caso il gestore si sta pagando il suo stipendio, diciamo così. Ultima cosa che ti voglio dire è che cosa sarebbe successo al titolo ARC Innovation se noi l'avessimo trattato con il metodo RF? Ebbene questa che ti mostro adesso è la curva accumulata dei profitti ovvero la equity line del sistema Trendycator sull'Arc Innovation. Ma come fa il metodo RF a guadagnare anche da un titolo così? Molto semplice perché il metodo RF è stato in grado di farti uscire dalla posizione al primo di ottobre 2021 quando in tempi ancora non sospetti già il nostro Trendycator aveva individuato un calo di forza sul titolo quindi poi questo calo di forza si è manifestato pesantemente con il calo che poi abbiamo visto e i lettori di rendimento fondi si sono evitati quella perdita. Ne abbiamo parlato già tante volte in tanti altri video, te lo ricordo se tu esci da una posizione tu ti regali l'opportunità di poter rientrare anche se poi il titolo dopo poco riprende a salire. Non importa, tu comunque uscendo ti sei regalato a te e al tuo patrimonio l'opportunità di rientrare se tu invece non sei uscito tu non hai nessun'altra possibilità che o vendere in perdita oppure aspettare non sai quanti anni prima che il titolo torni ai valori iniziali magari non ci tornerà neanche mai più proprio perché abbiamo visto che a monte su questo titolo ci sono delle scelte sbagliate. Spesso noi facciamo analisi su degli indici gli indici di mercato bene o male nel lungo periodo è vero salgono sempre però attenzione che il metodo RF e il Trendycator funzionano anche e soprattutto su qualunque tuo strumento ETF, azione, fondo, qualunque cosa tu possegga in portafoglio. La differenza tra un ETF come questo, lo abbiamo visto, e ad esempio un indice di mercato è che questo ETF per gli errori che sono stati compiuti potrebbe anche non tornare mai ai valori iniziali. Bene, anche per questo video è tutto. Ti ricordo che su corsi.rendimentofondi.it se vuoi puoi seguire il corso totalmente gratuito sul metodo RF e imparare anche tu come guadagnare e soprattutto come potrai fregartene del fatto che titoli come questo, titoli spazzatura, non torneranno mai più sui valori iniziali. A presto da Walter De Maria